Noi ci aspettavamo una partita che ha fatto, perché eravamo studiati bene e sapevamo che erano così. Però secondo me in alcuni frangenti hanno giocato meglio noi, in alcuni loro. Stavano una bella partita, compatuta e la cosa positiva è che non si è giocata a palco. Ma noi siamo stati sempre di normale che poi quando i risultati non ti accompagni non puoi parlare di qualsiasi cosa. In questo momento i risultati ci stanno dando ragione, veniamo da tre vittore, il pari di oggi. Però non dobbiamo pensare oltre adesso, dobbiamo concentrarci sulle partite, perché abbiamo fatto l'errore al giorno d'andata di metterci troppe aspettative addosso, quello ci ha un po' condizionato. Quindi adesso davvero giochiamo partita per partita e come oggi. No, è stata una partita buona, sono molto positiva da parte di tutti i reparti, giocata con la cattiveria giusta, anche tatticamente abbiamo fatto delle cose giuste, quindi io e anche i miei compagni sono molto cedistati.